Inaugurazione simbolica questa mattina in località Valcozzena nel comune di Agordo delle nuove difese spondali del torrente Cordevole. L'opera serve a mettere in sicurezza lo stabilimento agordino della Luxottica e le attività presenti nella zona industriale. Il progetto finanziato dalla Regione Veneto era suddiviso in tre stralci e prevedeva la realizzazione di un muro di contenimento alto circa 5 metri e lungo quasi 250 metri. 4 milioni di euro investiti sul territorio che hanno lo scopo di mettere in sicurezza un'area importante come quella dell'area produttiva di Agordo. Qui non c'erano condizioni di sicurezza, forse non era percepito dai cittadini ma l'autorità di vaccino istituale aveva evidenziato un livello di rischio pari al terzo su quattro possibili. Grazie a questo intervento la zona industriale di Agordo passa da un livello di pericolosità idraulica P3 a un livello praticamente nullo, P0. Sono opere importanti, costose, non si vedono. La Regione ha investito, il mio assessorato ha investito in provincia di Belluno quasi 700 milioni di euro in opere di questo tipo, 1800 cantieri attivati cosa mai successa nella storia e questo tipo di attività ha fatto diventare il Veneto la Regione di riferimento per le opere di difesa del suolo. Dopo l'alluvione del 1966 nella zona di Agordo sono stati effettuati 11 interventi di messa in sicurezza. È un'opera importantissima perché garantirà la sicurezza giusta alle migliaia di persone che quotidianamente vengono nella frazione di Valcozen perché questo dimostra quanto importante sia cercare di prevenire eventuali eventi atmosferici e meteorologici particolarmente intensi come purtroppo succedono spesso a volentieri. Terminata la sistemazione dell'argine destro del Cordevole si pensa ora a un intervento in sinistra orografica del torrente che ha lo scopo di difendere in modo particolare la viabilità, la strada gordina e attraverso delle opere che consentano di riportare l'alveo del fiume o il corso d'acqua nella parte centrale dell'alveo.